A Conchite Vasile ha spus che bogazzia è tot ce ne rimane dacca am pierde tot ce avvenna. E io m'intreb, ci sarei un tipo dacca am merge mai departe, dacca am renuncia chiar la orce orce, e non solo per le cose materiali. Salute e bene ti ho spiegato, sono Bruno Medicina, trainer, coach, autore, o come a sempre mi dice, un uomo che aduce performanza. Ieri abbiamo visto il concepto di attasare, in modo in cui possiamo capturare una maimuta con una metoda simpla, ne basando per la comune a ieri per l'incapacità di lasciare un lucro e per la pelle. De fatto noi ne portiamo la felice in migliaia situazione, ci non mi referendo la parte materiale, la parte a bagno, la parte a velo. E' un gioco che credo che orce copil, orce adolescente s'ha intrebato da un momento. Signore, chiaro, adulti, poi la si balta con la discussione, da un numero e la si balta. Adicca, tutti ne hanno intrebato, cine senti io in legatura con il truppo il mio. La un momento, daca rimane per la picioare, io pot, foarte uissor, s-a spiegato io e le miei braci. Daca rimane per la braccia, spero, s-a non, io e le mie braccia, io e il mio. E' chiaro che, daca scot, tutto non rimane sufficiente per a trai. Dar, astea è altra discussione. Riamane il fatto che io percep, foarte uissor, che io sono qualcosa di diverso di quelle cellule che formano il mio corpo. S-a non guardato il fatto, banale, che cellulele se rinnoiesce in total la fiecare 3-4 anni. Non tutti con questo livello. In fine, dopo 4 anni non c'è nulla di un truppo il tuo corpo. Ma tu hai questa percepzione di unità. E con il truppo è relativ di uissor. De questo s'a inventato il concepto di inima, di suflete. E' in quel momento in cui, a scos partea materiale, incepi a me intrebi, io e cultura mia, la un momento in cui è una cultura che è entrata in mea, io e esperienza mia, io e le miei connaissime, è una cosa che può essere molto, che entra in mea, identifica in mea, ma io percep, che io sono una cosa abbastanza, diversa di queste cose, che entrano, possono le perdere, possono funzionare, non sono inventati di mea, quindi io posso dire e le miei connaissime. e le miei connaissime. In questo modo, posso dire questo, io e le miei emozioni. Io posso essere superato, posso essere felice, posso essere indragostit, ma queste sono alcune cose temporali, non ciò che mi identificano come persona. Ci sono alcune cose, alcune sono più superiose, altre sono più pliagose, ma si percepono che posso dire io e le miei emozioni. In questo modo, posso dire io e le miei pensi. Perché, in un momento in cui, le miei pensi sono qualcosa di passaggio. E, molte volte, io non sono in modo di identificare se un mio pensi o qualcosa che mi ha entrato in cap in media, in professori, in qualcosa che ho avuto da altri. In questo modo, questa è una discussione aparte, interessante, si dice che nessun pensi che non si vive in mente, in mente, che non si vive in mente, ma 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 non si vive in mente. il piacere che si vive in mente, ma non si vive in mente. a tutti questi aspetti, percepis la sensazione di unità, di incolle di tutte queste cose. Bene, questa è la questione che i mistici se punono di mille anni, cioè chi sono io di incolle di tutte queste aspetti superficiale. E di questo è così importante la meditazione, perché quando si dice che devi meditare, devi entrare in te, di fatto questa è la metoda, questo è il senso, che per una perioda limitata, nel momento in cui lo faccio, io posso di parte truppe, di parte emozioni, di parte cultura, di parte ghendori e arrivare alla pura presenza. questa presenza è il lucro che, davvero, lo facciamo. Io già in altre situazioni ho parlato di questo aspecto di comunicazione con qualcosa. Poi, potete nomi Dio, 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 non importa. è un qualcosa che percepi che sei tu e è di vicino di tutte queste aspetti transitori. Io credo, se ci sono qualcosa che credo con fermità, che l'obiettivo davvero della vita è di entrare in contatto, per quanto si può, con questi aspetti, vicino di tutto ciò che è temporale. Spor la traba da quale usate, se ne vedem mâine cu alte idee, o si pune in continuare. Grazie.